Ciao amiche e ciao amici, come avete visto dal titolo e dall'anteprima di questo video oggi parliamo di questo libro qui, ovvero Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno a volare una storia originale di Luis Sepulveda, ma bando alle ciance, vi ricordo iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto e detto questo vi mostro subito il libro e poi facciamo un po' di considerazioni allora eccoci qua, questa è come si presenta questa edizione edita da Salani, editore, di la storia di una gabbianella e del gatto che le insegno a volare come vedete colore predominante è l'azzurro, al centro abbiamo ovviamente il titolo in questo box di colore sabbia l'autore Luis Sepulveda e due disegni, una gabbianella e un gatto di colore nero, sotto la scritta romanzo poi piccola chicca qui in alto abbiamo la rappresentazione istrici d'oro edita sempre Salani con il disegno di due istrici che però vi assicuro nulla hanno a che fare con questa storia per quanto riguarda la costa del libro, ve la mostro in questo modo abbiamo qui il nome dell'autore, Luis Sepulveda poi il simbolo Salani e la scritta anche sotto qui Salani e poi al centro il titolo dell'opera, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare nella parte posteriore del libro invece abbiamo sempre il simbolo con i due istrici un breve estratto del romanzo, della storia una citazione di Bruno Arpaia relativa proprio all'autore Luis Sepulveda Sepulveda costruisce con la consueta maestria letteraria un mondo dove aiutare chi è in difficoltà e il valore supremo dove, lezione non trascurabile, riesce a volare soltanto chi osa farlo qui in basso abbiamo il codice ISBN e il prezzo la versione di Salani costa 11€ e qui un'altra serie di informazioni non ci sono alette laterali quindi non c'è né la seconda e né la terza di copertina carta riciclata infatti il colore è un colore giallastro e nonostante si tratti di una copertina rigida vi ripeto non ci sono le alette ma è semplicemente in questo formato detto questo possiamo ritornare all'altra inquadratura e ci raccontiamo due cose ok come avete visto questa è la struttura del libro come si presenta questo libro? io ho deciso di acquistare la versione di Salani per due motivi sarò davvero molto sincero la prima è perché sono affezionatissimo a Salani quindi mi piaceva avere questa edizione secondo perché era un'edizione che costava qualche euro in meno euro che ho risparmiato e che posso investire in altre letture ma detto questo torniamo alla storia si tratta di un romanzo brevissimo come vedete infatti anche lo spessore del libro non è non è davvero molto pronunciato anzi è un libricino che si legge in una sessione io ho iniziato a leggere questo libro che era sera in un'oretta e mezza l'ho forse anche di meno l'ho letteralmente divorato uno perché non c'è bisogno di presentazioni su Luis Evolveda è un autore bravissimo è stato un autore bravissimo uno scrittore bravissimo purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso ma la cosa bella di questo romanzo è che è una storia che si legge tutta ad un fiato ogni pagina chiama quella successiva la storia non vi spoilerò nulla non vi preoccupate si tratta di una storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare sì effettivamente è così un gatto che insegna a volare a una gabbianella una cosa molto 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 strana questo libro è pregno di valori tantissimi valori tra cui sicuramente l'onestà l'amicizia la forza di volontà e soprattutto il rispetto il rispetto per chi è diverso ma non vi voglio vi ripeto non vi spoilerò assolutamente nulla se è una storia che non avete letto proprio come me siete delle brutte persone e recuperatela recuperate questa storia perché è una storia davvero molto bella se l'avete letta fatemi sapere sotto nei commenti quali sono state anche le vostre impressioni vi dico la verità per una decina di euro ma sicuramente sicuramente anche nei mercatini dell'usato si trova a un prezzo minore ne vale la pena ne vale la pena anche perché questo non è uno dei classici libricini che leggiamo e che poi lasciamo in libreria no questo è un libro che può essere preso in qualsiasi momento mentre lo leggevo lo so forse ho viaggiato tantissimo con la fantasia ma mi sono immaginato da grande a leggere questo libro a un bambino a un figlio a una figlia una storia letta prima di andare a letto e richiama moltissimo la lettura di questo libro richiama moltissimo quel tipo di atmosfera almeno questa è stata l'impressione l'impressione che ha dato a me compratelo è una storia che veramente vale la pena di leggere e niente non ci sono veramente altre cose che vi posso dire ve l'ho mostrato ve ne ho parlato vi ho raccontato qualcosina spero di avervi spinto a leggere questo libro o comunque parliamone sotto nei commenti raccontiamoci un po' di cose e niente grazie se siete arrivati fino alla fine di questo video noi ci vediamo nei prossimi giorni perché ci saranno davvero un sacco di novità sia per quanto riguarda il mondo dei manga e dei fumetti che per quanto riguarda il mondo delle letture dei libri e quindi niente grazie 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 vi voglio un mondo di bene cuoricione grande grande e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao ciao